Scusa, per la Torre Eiffel. Non lo so, provate a guardarci. Non so dove l'è, non so dove l'è. Tu, tu non ho Cana Team? Dovrei? Dovresti, dovresti sì. Perché? Perché dieci anni di Cana Team ragazzi, dieci anni, 2001-2011. E io sono qua, ambasciatore della Cana Team a Pari. Se trovassi la Torre Eiffel sarebbe anche meglio, perché non so dove l'è, dove delle minchie l'è. Oh, per blé. Ecco l'è l'è. Ce l'abbiamo fatta, bene. Saluto tutti i miei amici a Cana, saluto il Senato. Un ciao a tutti le monde. A tutti le monde. A tutti le monde. Au revoir. Di sta grandissima copolazione della mia. Olè.